come attivare la carta di identità digitale è una procedura molto semplice ma è molto importante conservare le lettere che vi danno quando fate la richiesta vi danno la prima lettera e quando arriva la carta di identità con la posta o quando andate a prenderla c'è una seconda lettera ci sono due codici che diventa una password unica attenzione conservatele perché le sfruttiamo come password per chi non dovesse saperlo la carta di identità digitale lo sfruttiamo anche come come lo speed praticamente come un paio di chiavi che noi possiamo entrare in tutti i siti dello stato è molto importante averle ste chiavi perché ci serviranno per tantissime cose per vedere per fare la richiesta del passaporto per fare tantissime cose se non avete lo speed lo speed è più semplice si entra più facile ma anche la carta di identità digitale è molto semplice procediamo con la procedura vi faccio vedere come si fa per attivare la carta di identità digitale ovviamente dovremo avere vicino la carta il nostro smartphone e le ricevute la prima ricevuta che ci danno è la seconda che viene attaccata la carta andiamo nel app store se avete un iphone se avete un android nel play store ovviamente e scrivete c e id cd andate a scaricare di questa applicazione qua che è quella giusta la prima è pubblicità andate a scaricare questa qua cd andiamo a scaricarla ovviamente io l'avevo scaricata ma per farvi vedere a voi l'ho cancellata li facciamo vedere la procedura apri andiamo aprire l'applicazione adesso ci fa leggere un po di roba ovviamente dovete leggere andate in fondo finché viene accetta questa volta non me lo vuole far accettare riapriamo sta benedetta applicazione vuole che leggo ok accetta ci sono due procedure accesso semplificato e accesso con lettura allora l'accesso semplificato nel mio caso è il secondo perché gli faccio leggere la carta non sto lì a inserire tante password quindi se voi avete un telefono degli ultimi tempi quindi uno smartphone dell'ultima generazione dovete avere anche la tecnologia nfc la tecnologia nfc serve anche per fare i pagamenti magari voi collegate una carta prepagata e fate i pagamenti idem anche con la carta d'identità si collega tramite nfc quindi facciamo la seconda procedura adesso è il momento di fare le password che troviamo nelle carte come vi ho già detto ci sono delle password allora qua c'è la la seconda metà della password nell'altro foglio ci sono c'è la prima metà delle password quindi io vado a fare le password quindi ho fatto la prima metà che trovo nella prima carta nella prima ricevuta adesso vado a fare la seconda metà adesso mi dice di avvicinare dopo aver fatto la password di avvicinare la carta vicino al telefono quindi vado avvicinare il telefono vicino alla carta provo avvicinare la carta dal di sotto tieni fermo la carta l'ho accettata configura configura face id adesso io configuro il face id che mi riconosce la faccia porto il mio smartphone vicino alla mia faccia se avete un telefono con l'impronta digitale vi fa attivare l'impronta digitale adesso io sto configurando il face id e la procedura è già stata fatta signori direi che non era tanto difficile un saluto a tutti da edward simoni